Gentili telespettatori, buona giornata. Quest'anno si può andare in pensione 5 anni prima, pensione anticipata, al posto che ha 67 anni ha 62 anni. È una finestra che si apre con il contratto espansione, c'è una grossa novità. Prima questa possibilità era solo per aziende con più di 1000 dipendenti, ora si è scesi ad aziende da 50 dipendenti in su, si può andare in pensione 5 anni prima e chi la paga la pensione? L'azienda. L'azienda vi paga la pensione se andate 5 anni prima, però, attenzione, non è una vostra scelta. Non è che dite, beh, adesso cara azienda mandami in pensione e paghi tu. È l'azienda che vi chiede se volete andare in pensione, non è la stessa cosa. Quindi l'azienda che per vari motivi decide che c'è un certo numero di persone che non servono più lavorativamente parlando, può decidere di dirgli, guardate, voi, 20-30 persone, vi mando in pensione anticipata, prendete lo stesso importo di pensione che prendereste fra 5 anni, andate in pensione, quella pensione ve la paghiamo noi come azienda. Ovviamente l'azienda cosa risparmia? È che la pensione è più bassa dello stipendio. Quindi ha delle persone a casa, le paga per 5 anni, ma non paga tanto come prima. Ecco, al posto di cassa integrazione, al posto di fare mobbing, cercare di licenziare le persone, facendo tutti, allora può fare questo. Questo è nel nuovo decreto lavoro approvato dal Consiglio dei Ministri il primo maggio, ha portato queste novità. Una di queste riguarda il contratto di espansione strumento per incentivare il ricambio generazionale nelle aziende la riqualificazione del personale. Bene, l'azienda poi, quando ogni tre persone che manda in pre-pensionamento, deve assumerne un'altra. Quindi l'azienda può anche fare una sorta di cambio. Mando via tre persone e ne assumo una, che mi costa di meno, perché gli altri magari avevano tutti gli scatti di anzianità, eccetera, eccetera. Faccio un nuovo contratto a una nuova persona. Naturalmente all'azienda può convenire, manda via tre, ne assume uno nuovo che costa meno, queste pensioni le paga meno, però alla fine comunque paga dei soldi per un lavoro che non c'è, nel senso che mandi via tre persone a 2.000 euro ciascuno, magari di pensione gli paghi 3.000, poi ne assumi un'altra a 1.500, tu sei sempre fuori di 1.500 come azienda. Ecco, però può servire per tamponare. Ecco, questo decreto servirebbe anche per dare nuovo impulso a nuove assunzioni di giovani, certo, quindi prima era solo per aziende con più di 1.000 dipendenti, ma oggi con la modifica fatta il primo di maggio da 50 dipendenti in su si può accedere a questo scivolo pensionistico. Il contratto di espansione è stato pensato con il fine di aiutare le riconversioni e le ristrutturazioni aziendali, andando a sostituire i contratti di solidarietà espansiva. L'obiettivo è quello di favorire la ristrutturazione delle imprese in crisi, evitando il fenomeno degli esodati. Dall'anno scorso il contratto di espansione ha guadagnato altri due anni di vita con la legge di bilancio 2022, che nell'articolo 63 ha prolungato di un biennio la forma di accompagnamento all'uscita del lavoro, che consente, previo accordo tra aziende e sindacati, di mandare in pensione su base volontaria i lavoratori fino a cinque anni prima dei normali requisiti. Nato come una sperimentazione per il biennio 2019-2020, il contratto era stato prorogato e potenziato per il 2021 e poi ancora fino al 2023. Quindi parte da lontano, parte dal governo Conte, poi Draghi e oggi Meloni. E' un qualcosa che può diventare anche strutturale, perché il governo non ci mette un solo centesimo. Ecco, quando i governi fanno in Italia cose dove non ci mettono un solo centesimo, si possono fare tranquillamente. Il problema è quando gli devi mettere dei soldi che non ci sono. Ecco, la differenza è che nel 2019 riguardava le imprese con almeno 1.000 dipendenti. Poi si era sceso questo 1.000 a 250, poi a 100 e oggi con 50 dipendenti. La novità del decreto lavoro permette alle aziende con più di 1.000 dipendenti permetteva fino al 31 dicembre 2022, poi prologato fino a fine 2023. La pensione è la stessa identica che uno prenderebbe al momento della pensione, decurtata dell'annaspi. Quindi è un'uscita su base volontaria, l'azienda non ti può obbligare, però se l'azienda ti dice, scusate, vai in pensione cinque anni prima, può convenirti, ma può essere anche che tu hai dei prestiti, hai delle cose da fare importanti, dici, beh, caspita, prima prendevo 1.800 euro netti, con la pensione mi vanno a dare 1.000, che faccio? Entro in povertà subito, cinque anni prima, pensavo di entrare in povertà con la pensione, perché nella maggior parte dei casi con la pensione entri in povertà. C'è chi ha avuto la fortuna di andare in pensione con la stessa cifra, ad esempio, conosco persone che lavoravano per 1.600 euro al mese e vanno in pensione a 1.550 euro al mese. Ecco, quindi c'è chi ha avuto la fortuna di poter andare in pensione con la stessa cifra di quanto lavoravo qualcosina in meno, ma da oggi in avanti, quando vai in pensione, rischi veramente di entrare finalmente nella povertà, cioè al posto che dire finalmente vado in pensione, sì, finalmente vado in pensione e divento povero, questa nuova esperienza, ecco, questa nuova esperienza di diventare povero entrando in pensione. certo che molti preferiscono continuare a lavorare proprio per poter continuare a vivere perlomeno come prima e non diventare improvvisamente dei poveri, molti da lavoratori poveri passano a pensionati estremamente poveri, purtroppo. l'Italia oggi è, oggi è così e non si vogliono prendere e attuare delle soluzioni che vanno in un certo tipo, no, ci giriamo intorno, ci giriamo intorno, ci giriamo intorno. Grazie a tutti per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Arrivederci a tutti e grazie. Grazie a tutti.